Salve a tutti cari amici e fans di Riccardo Fogli, benvenuti in questo nuovo video. Vi parliamo di Predestinato, il libro di Riccardo Fogli che contiene due cd. Uno dove racconta della sua biografia eccetera vocalmente e un altro dove canta delle canzoni. Ci saranno sicuramente le due inedite, come ho detto io, la tenerezza 93 e maledetto l'amore, compreso sicuramente altre rivisitazioni come ho detto in precedenza, tipo come mondo. Il disco adesso, cioè il cd, il doppio cd, adesso è in vendita su IBS e costa 29,90 euro. Dove potete già preordinarlo. Io praticamente già l'ho preordinato e il 22 aprile di quest'anno sarà in vendita. Questo, come ho detto io, sarà il muro dove sarà allegato la copertina del nuovo album raccolta di Riccardo Fogli, che si chiama Predestinato. Questa è una zona del parco discografico di Riccardo Fogli, della mia fantasia, dedicato tutto all'Azzurra Music. La tenerezza 93, maledetto l'amore, mondo cofette, dot di battaglia. E qui, su questo muro qua, predestinato, predestinato, perché poi è anche un muro molto molto alto. E qui la foto sarà ancora più grande e ancora più bella da poterla vedere. Poi vedrete a casa come sarà uscito questo allegato, questo fotomontaggio che creo io, con il mio pc, con Paint. Non solo sarà allegato la copertina predestinato qui, ma ci sarà anche la biografia, copia e incolla, di quello che rappresenta questo libro contenente due cd. Vi consiglio di comprarvelo, io per esempio già l'ho preordinato, l'ho già comprato, devo soltanto aspettare il 22 e in quel giorno sarà già spedito. La consiglia sicuramente potrebbe essere effettuata, cioè sarà fatta per un giorno dall'acquisto, non lo so, comunque sempre arriverà. È un album importante di Riccardo Fogli che parla della sua carriera artistica, grande storica carriera, con i Poo e da Sorista. Predestinato, cari fan, è un titolo importantissimo, soprattutto per il parco del mio paese, per il posto dove io ho scelto di allegare queste nuove copertine. Ma questa sarà ancora più speciale, cari fan. Predestinato. Predestinato. Sicuramente nel vocale ascolteremo la sua voce, mentre legge la biografia, ed è un qualcosa di speciale. Due cd, uno dove canta, dove ci sono le canzoni, e un altro il parlato, mentre legge la biografia che c'è contenuta nel suo libro, nel suo splendido libro predestinato. Mi raccomando, iscrivetevi nel mio gruppo di Riccardo Fogli e comprate anche voi il libro più i due cd, ma sicuramente già l'avete fatto. Su Amazon non so se sarà messo in vendita, ma sicuramente lo sarà messo in vendita. bisognerà aspettare, soltanto aspettare. In questo momento è in vendita soltanto su ibs.it Compratelo, predestinato di Riccardo Fogli. Il video finisce qui. Un saluto a tutti da Roberto, dal parco di San Giorgio del Sagno, dove nella mia immaginazione della fantasia, immagino che questa sia la discografia di Riccardo Fogli. Questa zona qua del parco è dedicato a Azzurra Music. Un saluto a tutti quanti voi. Viva per sempre la musica di Riccardo Fogli e dei Pooh. Predestinato.